Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di riso 350 grammi di pisellini Olio Mezza cipolla tritata Brodo caldo Un peperone rosso dolce Un peperone giallo dolce Due gambi di sedano 20 olive verdi Salsa Worstere pepe Preparazione Far appassire la cipolla con 4 cucchiai d'olio Unire il riso Mescolare e coprire con il brodo Cuocere in forno a calore medio fino a quando il brodo non sarà assorbito Far intiepidire A parte creare una salsa con 5 cucchiai di olio Mezzo cucchiaio di Worcester Poco sale e pepe Con la salsa ottenuta condire il riso Unire il sedano I peperoni e le olive a filetti e i piselli lessati Mescolare e servire freddo Il piatto è pronto Buon appetito!